Dal mercato tutelato al libero mercato dell'energia, che cosa cambia innanzitutto tecnicamente? Tecnicamente cambia che dal 1 gennaio 2021 le piccole e medie imprese saranno costrette a dover scegliere un fornitore di energia elettrica nel libero mercato, perché il mercato tutelato andrà a scomparire. È importante definire la piccola e media impresa, perché devono rispondere almeno ad uno di questi tre requisiti. O un contatore con una potenza disponibile di 15 kilowatt, un numero di personale che va dai 10 ai 50 dipendenti o un fatturato annuo che va dai 2 ai 10 milioni. La scelta del nuovo fornitore dovrà essere fatta entro il 30 giugno e prevede per chi non ha poi fatto questa scelta che gli verrà affidato un fornitore che vince un'asta territoriale. Per una tutela, un aiuto, Confartigianato ha uno sportello. Lo sportello di multienergia è qui con il nostro Simone Verdelli. Qual è l'importanza di questo sportello? L'importanza è quella di avere un consorzio che tiene sotto controllo i prezzi e quindi riesce a fornire a tutte le imprese, le piccole, le micro, le grandi imprese che fanno parte del mondo di Confartigianato, un prezzo tutelato, a garanzia, che viene tenuto sotto controllo, che non ci siano troppi aumenti. Quindi in questo periodo in cui ci saranno questi cambiamenti, da questo primo semestre 2021 fino al prossimo anno, in cui anche le famiglie, e quindi ecco che lo sportello multienergia si rivolge anche alle famiglie, alle famiglie di tanti amici pensionati che abbiamo con noi iscritti e alle famiglie delle imprese, ecco che quindi andiamo a coprire dal punto di vista energetico tutte le necessità.